Ciao, sono Deco Cristian, faccio parte della Natura Valve e parlo qua da Varinei, che è in fondo all'Ignò, praticamente in fondo alla latta di Valpedino, dove abbiamo l'azienda di Fondo Valle. Attualmente le vacche sono ancora qui, si preparano per andare in alpeggio perché inizia la stagione estiva. Queste che vedete, ce n'è una su pezzi e le altre si sono tutte spostate, sono le manche, quindi la gioventù. Queste diventeranno vacche, alcune tra quattro mesi e altre proprio un altro anno. Tra un po', una decina di giorni, 15, vanno poi in alpeggio a Vessona, tutte, così fanno l'estate lassù fino all'autunno, perché è il periodo dell'alpeggio. Invece le vacche rimarranno alcune qui e alcune vanno in montagna a fare la fontina di alpeggio dopo.